volete migliorare ed essere più efficaci nelle vostre presentazioni il vostro migliore amico è il feedback e voglio iniziare ponendovi una domanda chi secondo voi è nella posizione ideale per dare un voto un giudizio ad un oratore ovviamente il pubblico e quindi la cosa migliore è se riuscite chiedete un feedback a loro che cosa avete fatto di buono o che cosa può essere migliorato ed è quello che io faccio durante i miei seminari successful presentation ai partecipanti viene chiesto di fare delle presentazioni e poi il pubblico dà la sua valutazione queste cose andavano bene e questo è il motivo per cui sono piaciute e quest'altre meno con le relative motivazioni se non potete chiederlo espressamente al vostro pubblico perché magari non siete in confidenza sono dei clienti considerate se potete farlo magari con dei colleghi che si in confidenza sono dei clienti considerate se potete farlo magari con dei clienti considerate Grazie a tutti.